Sei comuni insieme per studiare e approfondire la cultura. Con l'intento di contribuire attraverso la cultura, rafforzare la coesione territoriale, migliorare la crescita, promuovere patrimonio storico, culturale, turistico, ambientale della zona, si è costituita l'Associazione Osservatorio per la Cultura della Valle del Sagittario con la partecipazione attiva di tutti i rappresentanti dei comuni Introdacqua, Bugniara, Anversa degli Abruzzi, Cocullo, Villalago, Scanno. Il battesimo del nuovo progetto è avvenuto presso la Sala Consigliare del Comune di Anversa. Nell'occasione sono state definite anche alcune linee strategiche da portare avanti nei prossimi mesi. L'Osservatorio è stato ribadito, vuole essere soprattutto uno strumento di studio, approfondimento per le realtà del territorio, si muoverà in stretta collaborazione con tutte le amministrazioni comunali della zona. Le riunioni del direttivo si verranno in modo itinerante presso i diversi comuni, mentre la sede sarà quella del centro studi Nino Ruscitti a Bugniara. Fanno parte del direttivo dell'Osservatorio Mario Gianantonio di Anversa, Carla Laura Galante, Raffaele Gatta, Simone Lupi, Villalago, Pasquale Caranza, Enzo Gentile, Scanno, Carla Di Benedetto, Assessore Entrodacqua, Dino Chiocchio, Cocullo, Matteo Servillo e Giovanni Ruscitti a Bugniara. Coordinatore provvisorio è stato individuato Simone Lupi.